è un'emozione, un'esperienza di vita pensate che in alcuni casi abbiamo dovuto portare dei secchielli della spiaggia per le lacrime che colavano le fiscito di lacrime, abbracci di lacrime dopo averla mangiata è successo anche questo? grazie, grazie la ricetta la ricetta tanti auguri Maurizio bravo, auguri tanti auguri, vai, via bravo, auguri esatto, ecco qua, a posto